Sono sempre stato bene, poi vanno 11 in campo e c'è l'allenatore che fa le scelte, io sono contento oggi di essere entrato e mi alleno sempre al massimo, sia se dovessi entrare dall'inizio, giocare 30 minuti o due minuti, io cerco di entrare sempre al massimo. Fortunatamente adesso è più di un anno che sto bene e quindi mi sento bene, sì, ho detto bene, lì l'ho sempre fatto davanti alla difesa, quindi sì, è il ruolo che preferisco. Come ho detto, cerco di dare il massimo in tutte le partite, poi il mister fa le scelte, io comunque quando entro, quando gioco, cerco di dare il massimo. Mancava da un po' e ce lo meritiamo noi, ce lo meritano i tifosi, noi facciamo un gran lavoro, da un po' di mesi che lavoriamo molto in settimana e quindi ce lo meritiamo. Sicuramente quando vinci ti aiuta molto, sei anche più spensierato quando giochi e vincere anche la prossima ti porta ai playoff con molta più consapevolezza. Andiamo là sicuramente per fare la nostra partita e cercare di portare a casa il risultato, comunque vincere aiuta a vincere. In una partita attesa, dove non si sblocca il risultato e poi sei tu a fare 1-0, magari prendi un po' più di consapevolezza e giochi un po' più sciolto. Anche se non deve essere così, però inconsciamente magari quando sei sullo 0-0 e non vinci da un po' di mesi in casa, tenti magari a frenare un po' le giocate più importanti e poi quando fai 1-0 magari vai un po' più sciolto.